Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione speciale del TG Benz Una notizia importante, il 18 marzo alle ore 20 Seppriranno le porte del Diamond, un locale in Treviglio, un sito in Treviglio Ci sarà un compleanno speciale, il compleanno di Alle Benz Che non festigerà i 40 anni, ma festigerà i suoi 38 anni Ricco buffet, musica dal vivo, tantissime persone Sono un modo per svagarsi, trovarsi, ritrovarsi tutti insieme E questa notizia molto importante che ha scosso l'opinione pubblica Sicuramente sarà una festa imperdibile Con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto E vi diamo l'appuntamento per l'edizione della notte Grazie a tutti Grazie a tutti